Abbiamo alzato la posta, ci si è giocati tutto, anche il futuro dei nostri figli. E adesso, finalmente, ci godiamo quello che ci spetta. E' il vincitore del premio Contafavi 2010. E il vincitore è... Madiroz Bertolazzi! Sì! Sì! Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto. Grazie per la visione!